su progetti io voli ne ho pure 250 io ce l'ho le mazze io ci devo abbastanza e ora ce l'ho la vuota infatti infatti la polsetta ma devono passare o andiamo in giro no dobbiamo campanello voglio prendere la torta che c'è una venere però io devo fare mazze quindi vado a qui dire che io ce l'ho mazze un vicino e lei tanto il mamma face pietra un bot di pietra con una pietra mi da 150 ho full di pietra con due pietre ok ma io prenderò top sinceramente ve l'abbiamo recuperato i punti a freddo no non abbiamo ancora recuperato oh soffro di tutto voglio prendermi il vortice vai 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 non so non so che motivo perché te ne sei andato non so pensi la dipinta ma perché poi te ne sei uscito no è entrato pure Zorix che è un po' forte se entri tu siamo in quattro quindi bel bel spai che quanti punti hai oh cazzo di schieno entra 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 oh cazzo no ce lo distruggono porco capo porco capo grande cazzo ah ah ma tu ma quant'anni questi schieno ma ce l'hanno tutti un po' i problemi hanno mamma mia vada qua oh i problemi questi qua cazzo di schieno cazzo di schieno cazzo di schieno è rgeno 92 ma bella spiegare le cure per i scagnozzi bello ma lo so ma io mi date colpire che c'è caccia fatto mi dà un po di conti caricarci moriamo adesso cosa immattibile ma sembra più sicuro lo sparco sbaglio vabbè 2 v2 v3 abbiamo fatto abbiamo vinto vai giù eh vai giù eh vabbè vai giù altri spagnolci in questa partita ce l'hanno con lui ne so ma merito la prima viola altro cd altro scagnozzo quando anche di me si prende il flopper però il libro fish non lo posso mantenere ma io l'avanzo sono boxati come la merda qua sono i cessi è uno bella va 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 no no è una è uno è un caso è questo ai sono tre vai uso tre Mi ha raggio Mi ha raggio Mi ha raggio Vabbè a te ma c'è più Mi ha raggiunto 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 io non lo siamo al gioco ma la metto non ci occorre 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 a prenderlo sotto no 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 oh no 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 vai già a questo qua come è stato nel mio tunnel grazie grazie grazie